Anticipazioni il segreto. Domenica, 22 novembre 2020. Mattias chiede a Marcella un voto di fiducia. Le assicura che non c'è nessuna altra donna. Sta cercando di porre fine a tutte le questioni politiche che negli ultimi tempi lo hanno visto coinvolto. Per farlo ha bisogno di tempo. Santos spiega a Don Ignacio che è stato suo padre a morire in quel maledetto incidente a Bilbao. Maria Jesus, la madre di Pablo, è sua zia. E insieme cercano vendetta. Il giornalista è convinto che suo padre sia stato ucciso per fare pressioni su Maria Jesus in modo da spingerla a consegnare l'allora piccolo Pablo ai solo Sabal. L'imprenditore apprende, così, che sia lui che Maria Jesus sono complici e gli assicura che tutto ciò che dice non è vero. Il centeno origlia la loro conversazione segreta e resta sconvolto dai dettagli esposti. Più tardi, Rosa cerca di convincere suo padre ad aiutarla nell'organizzazione del suo matrimonio, ma l'uomo ha ben altro per la testa ed ha una risposta che fa piangere la ragazza. Adolfo fa visita alla sua promessa sposa e si preoccupa, mentre ascolta, le frivolezze, dei suoi discorsi. E, inevitabilmente, non può fare a meno di pensare alla donna che ama. Marta. Maurizio, fa visita a Francisca, per vedere come starà il mondo. L'uomo, è in evidente stato vegetativo, e non riconosce più niente e nessuno. Nemmeno la sua amata. Grazie a tutti.